Non volevo ucciderla, è stato un raptus di gelosia. Questa è la difesa del 27enne che martedì scorso a Francavilla ha accoltellato la ragazza con cui avrebbe voluto instaurare una relazione. Io la amo, sono pentito del mio gesto, avrebbe detto durante l'interrogatorio, intanto il giudice ha convalidato l'arresto nel carcere di Chieti. Secondo le ricostruzioni, all'ennesimo rifiuto da parte della 33enne, l'uomo avrebbe scavalcato il cancello del cortile di casa della donna e l'ha pugnalata 11 volte. Provvidenziale l'intervento del cane, un pastore abruzzese che si è scagliato sull'aggressore. La vittima è ora ricoverata in rianimazione all'ospedale di Chieti per le lesioni al fegato e a un polmone. Questa orribile vicenda ancora una volta ripropone il tema della lotta al sessismo. Nonostante la difesa sostenga la tesi del raptus di gelosia, come se si volesse sottintendere un gesto involontario dell'uomo di cui anche egli è stato vittima, sembra difficile al momento sostenere questa tesi. Non è di certo lui la vittima di questa storia? La gelosia in questione non è una scusante, ma un sentimento perverso che nasce da un rapporto impari tra uomo e donna. Tutt'oggi nella nostra società l'uomo è convinto, più o meno coscientemente, di possedere la donna ed esercita su di lei il proprio dominio. Tant'è che seppur i due avessero avuto una relazione al libero rifiuto della donna, l'aggressore ha cercato di ucciderla, come a dire «Se non vuoi essere mia, allora non sarai di nessuno». Un giorno però ci auguriamo che le donne possano riscattarsi autonomamente, magari chiedendo supporto alle persone di fiducia o ai centri antiviolenza, affinché per davvero potranno non essere di nessuno, ma uniche padrone del proprio corpo e della propria volontà. Grazie.